Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore Non è stato un anno facile per le coppie VIP. Prima fra tutti la separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi, poi Vanda Nara e Mauro Icardi ed infine Andra Nicole con Ciprian Insomma, c'è da stare attenti quest'anno. Se sembrava che negli ultimi giorni ci fosse un po' di pace, ecco che arriva l'annuncio della fine della storia di una coppia ai fidanzati del web Dopo nove anni arriva l'addio, ma scopriamo insieme di chi si tratta. Arriva la fine della loro storia d'amore, i due fidanzati del web scoppiano dopo nove anni Forse non tutti sanno che una delle coppie più famose del web si è lasciata nelle ultime ore Si tratta di Valentina Ferragni e Luca Vecil, fidanzati da ben nove anni L'annuncio, però, non arriva come un fulmine a ciel sereno Molti utenti avevano iniziato ad avere dei dubbi durante l'ultima estate dopo l'ostruggente racconto dell'influencer Valentina e Luca amano viaggiare e scoprire il mondo insieme, ma questo agosto l'hanno passato separati La Ferragni si trovava in compagnia della sua famiglia di Binza, mentre lui era impegnato per lavoro Pochi post su Instagram li ritraevano insieme e il web è impazzito Ma arrivano le rassicurazioni da parte della coppia VIP spiegando che l'allontananza non avrebbe intaccato il loro sentimento E invece, proprio nelle ultime ore spunta la storia Instagram di Valentina Ferragni Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate Scrive l'influencer sorprendendo tutti e continua Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata sofferta Stesse parole spuntano sul profilo di Luca senza dare spiegazioni o motivazioni sulla loro scelta Sembravano fatti l'una per l'altra, ma il sentimento non deve essere bastato dopo la confessione a cuore aperto di Valentina Luca Vezzio e Valentina Ferragni si lasciano dopo nove anni di relazione Anche se i due fidanzati del web sembravano una coppia consolidata ed eterna, purtroppo arriva l'addio L'importante è che continuino ad avere un ottimo rapporto. Lasciarsi sì, ma volendosi bene L'importante è che continuino ad avere un ottimo rapporto. Lasciarsi sì, ma volendosi bene L'importante è che continuino ad avere un ottimo rapporto. Lasciarsi sì, ma volendosi bene Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente